Saranno sentiti lunedì i tre giovani fermati ieri con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Avrebbero abusato di due ragazze di 17 anni nei primi giorni di agosto a menaggio. I carabinieri stanno cercando un quarto componente del branco, un moldavo che sarebbe fuggito all'estero. I militari dell'arma nelle scorse ore hanno bloccato un ventenne residente in provincia di Sondrio e due coetanei stranieri, un etiope e un albanese, entrambi regolari in Italia, tutti lavoratori stagionali impiegati nei locali di ristorazione e turistici del lago. E' come detto invece ancora irreperibile il quarto sospettato della violenza. Proprio il pericolo di fuga, come confermato nelle scorse ore dal procuratore di Como, Nicola Piacente, ha portato all'accelerazione dell'indagine e alla decisione di procedere con il fermo dei presunti stupratori. I quattro giovani sono accusati di violenza sessuale di gruppo e le vittime sono due ragazze minorenni, 17 anni, della provincia di Varese, che erano in vacanza sull'Ario, nella zona di menaggio. La violenza è avvenuta a inizio agosto ed è stata subito denunciata dalle giovani vittime. Le ragazzine, dalle prime informazioni, avevano trascorso la serata in un locale di menaggio. Qui hanno conosciuto i quattro ragazzi, tutti maggiorenni, circa 20 anni. A fine serata, le 17 anni avrebbero accettato di andare via insieme ai nuovi amici che si sarebbero offerti di accompagnarle in auto. Lasciato il locale, però, sarebbe avvenuta la violenza sessuale, sembra su una spiaggia del paese. Entrambe le ragazze sarebbero state abusate dai giovani. Le vittime hanno subito trovato la forza di raccontare quanto accaduto, denunciando tutto ai carabinieri. La violenza sarebbe stata confermata anche dagli accertamenti medici. Dalla testimonianza delle ragazze, i carabinieri sono risaliti ai quattro presunti responsabili, i tre fermati ieri e quello tuttora ricercato. I fermati sono in carcere al Bassone, in attesa dell'interrogatorio di convalida, fissato per lunedì. Grazie. Grazie.